Urla e grida nella notte in pieno centro a San Benedetto. La movida molesta continua a non dare tregua agli abitanti di Via Almentana che la notte scorsa sono stati svegliati da alcuni momenti di tensione che hanno visto protagonisti alcune persone, complice probabilmente anche l'abuso di alcol, provocando schiamazzi e trambusti fino all'arrivo delle forze dell'ordine che hanno poi riportato la situazione alla normalità. A raccontare quello che è avvenuto è Giovanni Filippini, residente nella zona. Dunque questa notte sono stato svegliato dalle urla micidiali che pericolene provenivano qui da Via Almentana. Naturalmente non sapendo che cosa accadesse ho chiamato le forze dell'ordine e naturalmente il numero unico di emergenza mi ha risposto e mi ha detto che c'erano già altre persone che avevano chiamato. Sono sceso in strada perché naturalmente più che altro sono stato preoccupato anche della mia casa, di quello che poteva accadere, ho visto che sono arrivate due battue di carabinieri e sono intervenute qui in Via Mentana a sedare probabilmente una rissa o un ubriaco che stava naturalmente interagendo con dei clienti. La situazione diciamo che si è tranquillizzata verso le 2.30, 2.40 e probabilmente siamo riusciti ad andare a riposare dopo che eravamo stati svegliati dal fracasso praticamente. L'ennesimo episodio di una situazione annosa è divenuta ormai insostenibile e che desta preoccupazione. Naturalmente non vogliamo limitare il diritto al divertimento dei ragazzi ma avremmo anche noi il diritto al riposo. Io mi auguro che tutti i sindaci che in questo momento stanno partecipando e facendo campagna elettorale possano intervenire affinché noi cittadini del centro riusciamo a risolvere i nostri problemi. Anche perché poi se andate un attimino a visualizzare quelle che sono il valore delle nostre case si sono abbassate notevolmente perché nessuno vuole più venire ad abitare qui visto quello che sta accadendo.